sì sì ho capito Shelly ma bisogna veramente parlare di queste due vecchie babbione ci pagano bene ok vado senti come sto già registrando taglia donne 6.0 sigla allora il problema è che quando una donna arriva a 40 anni immaginiamo marina ripa di meana scrive un libro sui suoi primi 40 anni e dicono tutti la vita comincia a 40 anni per compiono 50 anni la vita comincia a 50 anni che già lì sono sempre le donne che lo fanno perché io non ho mai visto un uomo che dice la vita comincia a 50 anni ma adesso sono arrivati al punto in cui la vita inizia a 60 anni in particolare daniela fedi e lucia serlenga casualmente due sessantenni ultra sessantenni credo hanno scritto il libro donne 6.0 per dire che cosa che le donne a 60 anni sono le più fighe del mondo sono proprio tutti desiderano una sessantenne tutti noi desideriamo una sessantenne chi non desidera chi di voi non desidera una sessantenne è bellissimo questo perché è un esercizio di arrampicamento sugli specchi senile che ne fa un piccolo dopo lavoro comunque che cosa dicono queste due vecchie avvenenti no come si dice no avvenenti avvizzite no comunque queste due nuove emergenti no perché sono giornaliste no comunque io voglio citare il libro perché bellissimo anzitutto il libro dice la premessa è che le donne a differenza dello yogurt non hanno una data di scadenza o abbiamo una certezza non sono di yogurt le donne non scadono mai pure vostra nonna è proprio è fresca e tutti cercano le vecchie no è questo che dice il libro tutti noi siamo ossessionati dalle non si dice poi vecchie anziane e oggi avere 60 anni dicono la fedi e la serlenga rappresenta la golden age di una donna l'età dove tutto è possibile tutto è possibile a 60 anni pensate io come mi sono messo che io già a 50 anni mi fa male di qua mi fa male di là devo controllarmi la prostata certo tutto è possibile raccontare ma loro sono fantastiche sono fantastiche loro l'età dove tutto è possibile ma perché le sessantenni dicono le autrici sono irresistibili tutte le sessantenni tutte le sessantenni sono resistibili cito le sessantenni sono forti sane belle eleganti piene di senso di humor e sex appeal tutte voi avete una sessantenne e diventa anche se era stronza era acida era sempre fa era brutta no a 60 anni rifiorisce diventa forte sana bella elegante piena di senso di humor e sex appeal gli viene pure il senso di humorismo a 60 anni capolavoro un capolavoro un capolavoro un capolavoro cito ancora cito ancora dal punto di vista fisico i sessanta di oggi sono i 40 di ieri e con le opportune cure si può scendere ancora di più ma dove ma dove i sessanta di oggi sono i 40 ma è per questo che il libro è bello perché ti dice delle cose che altrimenti non ti verrebbero mai in mente per pensare che i sessanta di oggi sono i 40 di ieri ragazzi cioè invece loro che sono delle autrici brillanti geniali guarda qua che ti dicono certo io non ho ancora visto nessuna sessantenne partecipare a miss italia o non ho mai visto nessuna sessantenne fare una gara di atletica leggera no c'è una che balla in televisione ma faceva pena però invece loro ci sono arrivate e poi dicono a un certo punto vedete bella questa qui è dicono le autrici pensate che nel 2030 le coreane arriveranno in massa al novantesimo compleanno io non so dove abbiano preso questo dato però praticamente fra dieci anni nel 2030 saremo invasi di coreane novantenni è bello perché un libro che da cui si si evincono dei dati no chissà dove hanno preso questo dato qui ovviamente citano casi di sessantenni bellissime pippo barbara d'urso dicono a un fisico da fare invidia molte ventenni sì però non è che una ventenne adesso dice voglio essere proprio come barbara d'urso e forse barbara d'urso che vuole essere una ventenne anche da come si veste qui invece loro ma hanno un passo in più capito non ma anche sono sessantenne o hanno tutta questa esperienza no ci dobbiamo credere a quello che dicono ci vogliamo credere a quello che dicono ci vogliamo credere a quello che dicono o no e finiscono con una citazione dell'antropologo marco oggi perché si deve citare sempre l'antropologo marco j che dice i corpi si logorano ma la soggettività resta in qualche modo fuori dal tempo a meno che non ti venga l'alzheimer cara mia però insomma abbiamo capito una cosa che la fedi e la serlenga sono delle grandi autrici perché ci aprono questo nuovo mondo delle sessantenni che tutti noi vorremmo scoparci altro che le ventenni e poi queste due grandissime autrici dicono che qualunque ventenne di buon senso attenzione di buon senso dovrebbe sognare di avere l'equilibrio la maturità la tenuta emotiva e l'esperienza di una sessantenne qualunque ventenne deve lì che di quanto vorrei essere una sessantenne io che ho vent'anni schifo invece loro sono belle forti lasciate un like se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale come dicono gli youtuber e niente vaffanculo queste due vecchie di merda e quindi